Oggi abbiamo una missione ragazzi, si proprio così, da oggi parte una missione, dobbiamo trovare la scimmietta! Proprio lei, la scimmietta è la nostra missione ragazzi, quindi da oggi fino a quando non troverò la scimmietta aprirò i Popsie Sparkly Critters Ehi, ciao a tutti, io sono Ginzia e oggi continuo la missione alla ricerca della nostra scimmietta Popsie! Ciao amici, eccoci qua con un'altra lattina, la nostra lattina per cercare la nostra scimmietta, la piccola scimmietta Critteroo! Con il corno magico, con gli occhioni bellissimi, oh mio Dio non vedo l'ora di trovarti! Andiamo a vedere che cosa succederà, la prima puntata è andata male, però male tra virgolette, ho trovato un raro Quindi se non l'avete vista ve la faccio vedere, ve la lascio qui sopra, da qualche parte, non so se è qui o qui, vabbè Comunque ve la lascio, è anche giù nell'info box, andiamo a vedere, andiamo a vedere! Andiamo, ce l'ho fatta forse, sì, ce l'ho fatta! Eh, allora ragazzi, mi sa che è la volta buona che trovo la nostra scimmietta Ta-na-na-na-na, ce la faranno i nostri eroi a trovarla? Unicorn Magic e Unicorn Shimmer, non è un'ultra rara E apriamo questo che ovviamente abbiamo capito che è la bustina, dove mettere lo slime e la pacchettina Sono tipo pacchetti di patatine E qua abbiamo la nostra bambolina, quindi la apriamo dopo e apriamo qua Ta-da! Qui c'è un indizio, sì, e quindi vediamo, è la nostra siringona bibitona Andiamo ad aprire Nooo! No, 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 non è la scimmietta ragazzi Perché la scimmietta ha la fanta O meglio, farta Non è l'unica ad averla, quindi anche volendo dovessimo trovare una fanta Ci sono delle possibilità Ma in questo caso è la Moontaine Com'è che si chiama? Moontandeus Comunque, resta la curiosità di capire chi sarà il nostro critter Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Ovviamente qui abbiamo il testone Ma non si capisce Non si capisce Andiamo ad aprire questa meravigliosa busta Pronti? Vedo una cosa che mi piace Pronti? Ta-da! Ah, la fecorella! Che carina! E' bellissima, ha i capelli come i miei La pecorella E poi ha gli occhi truccati di rosa, lilla Gli occhi meravigliosi Beh, diciamo che sto innamorando di questi critter Però voglio la scimmietta Ecco, vediamo Eeeh Anche lei come il primo fa la popò Ha il cuoricino qui dietro, quindi Dentro il critter c'è la polvere dello slime Che viene attivata con l'acqua E questa siringa, una di qua Quindi Eeeh Andiamo a vedere Vediamo come si chiama, perché non lo sappiamo Si chiama Fleece E' una rara! E' una rara anche lei! Che bello! E quindi ho fatto due video su di loro Non ho trovato la scimmietta Ma ho trovato due rari Wow! Ok, dovrebbe fare dello slime Vedo che c'è una macchiolina qua Che peccato Farà, mi sa, lo slime rosa Più che rosa ciliegia Lo vedremo adesso Andiamo a riempire con dell'acqua la siringona E diamo davvero la nostra fleece Intanto ve la faccio vedere anche qui, ragazzi Guardatela! Guardate il braccino! E gli occhi Ha degli occhi spettacolari! Wow! Io li adoro Cioè io questi pazienti li adoro Li adoro Apriamo il ciuccettino Della nostra pecorella Fleece E andiamo a dare la Muntain deus Muntain deus Vabbè Teniamola dritta La incliniamo un poco Guardate un po' Piano piano Mi raccomando Diamo davvero Eeeh Dobbiamo essere delicati Come con i bebè Ok Ha bevuto tutto Brava! Rimettiamo il ciuggetto E adesso andiamo a shakerare per un minuto la nostra pecorella Pronti? Via! Un minuto Oh mio dio Già esce liquido Rosa Oh mio dio Da sederino Non dovrebbe in realtà Proviamo Un minuto di shaker Eh un minuto è tanto comunque eh Shakeriamo Shakeriamo Shaker Shaker Shakeriamo Oh mio dio Mi si stanca il braccio Tu non sei stanca Sì pure lei è stanca Ok Adesso dobbiamo farla Appunto Dobbiamo farle fare la pupù Dove gliela facciamo fare la pupù adesso? Oh mio dio Mi serve qualcosa Procuriamola Ok L'unica cosa che ho trovato è questo bicchierino Che sembra una tazza tipo Un water Premiamo bene il ciuggetto E andiamo a farle fare la pupù Prima che fa la pupù ce ne vuole però eh Ecco ecco Sta andando Guardate il rosa È bellissimo il rosa Ecco è uscito un po' anche dalla bocca Va bene Che bello il ciliegia Tolgo il ciuccio per farle tornare la testa normale È tutta sporca Ma che cosa è combinato? Tanto guardate che bel colore Stupendo Dobbiamo aspettare che ovviamente lo slime Si diventi slime Quindi una quindicina di minuti Budino pronto ragazzi Oh mio dio Guardatelo Lo mettiamo subito subito qua Che bello È un colore bellissimo E adesso andiamo ad aprire le bustine Le buschine Unicorn magic Questa volta mi sono munita di forbice E apriamo io Oh mio dio Già scende ragazzi Ma perché? E andiamo a mettere piano piano Unicorn magic E andiamo a girare Già si vede ragazzi Wow è bellissimo Questo effetto che gli da Guardate guardate Uuuuuh Dai dai che bello Giriamo Che bello ragazzi Diventa bellissimo Diventa bellissimo come colore Guardate Ok adesso apriamolo per bene qui Tadà E andiamo ad aggiungere i nostri glitter Chissà che colore saranno Chissà ma chissà Glitter Pioggia glitter Fucsia ovviamente Chiudiamo Ho messo tutto dentro E adesso mischiamo per bene Oh mio dio si è rotto Oh mio dio si è rotto Ah ora si è tutto No Giriamo giriamo Ah è uscito guardate E' diventata super glitterata Bellissimo Perché parlo al femminile E' lo slime Però è la pupù Quindi parlo al femminile E la pupù è diventata Tutta glitterata Guardate Le mie mani pure Ma ne valsa la pena Guardate Spettacolo Che spettacolo Wow Adesso andiamo a mettere anche questo Dentro Il sacchettino Delle patatine Guardate che bello Tadam Apriamo E andiamo ad inserirla Sembra al femminile parlo io eh Che bello Sembra big bubble Ok Bisogna uscire un po' d'aria E chiudiamo Tadam Eccola qua E ovviamente ci potete giocare Sia così Sia Prendolo e Wow Ecco qui la nostra pupù E qui la nostra piccola pecorella Please Beh Niente Neanche questa volta siamo riusciti a trovare la nostra scimmietta Però anche lei è una rara Quindi Che felicità La seconda rara che trovo Non cercavo una rara Quando non si cerca la rara Si trova la rara Vedete Io cerco la scimmietta Che è una regular No Rara Tieni Ok Va bene Comunque Ha bevuto la sua In mountain De va De 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 deus De deus Vabbè Comunque E niente Eccola qua Se vi è piaciuto questo video Lasciate un pollice in su Mi raccomando Ditemi se continuare la missione E cercare la mia scimmietta dorata Oppure no Voglio dei pollici in su E facciamo arrivare questo video A 50.000 visualizzazioni Se volete Il terzo episodio Ok Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Io vi mando Un bacione enorme Con le mani tutte glitterate E fluorescenti E non lo so Che cos'altro Vivimi tantissimo E al prossimo video Mettete un pollice in su Iscrivetevi al canale Vabbè De commentate Se è giù nei commenti Ci sono i commenti Perché ancora non lo so Se è un po' incerto Seguitemi su Instagram 21button E tiktok Ciao ragazzi Vivimi tantissimo Ciao ciao